come hai fatto? no hai fatto che? io ho fatto un po' qui sto cargando i video in coppa youtube, eh? si? mi metti un bello video in coppa youtube non ci sta, non ci sta non ci sta non ci sta, non ci sta se tu vuoi come rimuovere poi si parla dai, si parla di te, che parla di te e dai, si parla ancora, si parla di te e qui ci sono